In quest'ultimo speciale, sulle prime 20 stagioni di Premier League, rendiamo omaggio alle imprese di personaggi chiave. Da chi cominciamo? Sir Alex Ferguson, naturalmente. Il manager più vincente del calcio inglese ha portato lo United a 30 trionfi, fra cui 12 titoli in Premier League. Ma a impressionare è anche il fatto che nonostante i grandi successi, l'entusiasmo e l'amore per il calcio siano quelli di sempre.